Si spinge in avanti E l'ambito dice che è calcio di rigore In diretta mi era sembrato un fallimento E in effetti ora anche il replay conferma la mia prima impressione E' entrato in ritardo, senza particolare cattiveria In sacca Ha vinto la sfida dell'interno E va, bella parata, non si è fatto sorprendere Corner Colpisce di testa E con questa rete si sono fatti raggiungere il risultato di nuovo in bilico Sono arrivati al gol da buona azione insistita Ha saputo approfittare dell'ottimo corner calciato dal compagno Per battere il portiere Nasri Cerca la rete Attenzione rete Si portano in vantaggio Questo permetterà loro di affrontare il secondo tempo con maggiore tranquillità e fiducia E non è proprio la sua giornata oggi, questo pallone non era certo imparabile ma è costretto a raccoglierlo in fondo alla rete Ottima occasione E il pallone entra in rete Ipotizzare una rimonta a questo punto è un'utopia, specie con un portiere in queste condizioni Rischiano di prenderne altri se non stanno attenti A spazio per l'antino Attenzione rete Si tolgono le spizzi di concludere la gara con un gol Tutto può ancora succedere ma questa sconfitta potrebbe far suonare qualche campanello d'allarme Anche se siamo appena all'inizio Grazie